Allora, la persona che parlerà adesso invece è Beatrice Lugano, che è una consulente creativa e che si occupa di aiutare la comunicazione di liberi professionisti e piccole imprese tramite grafica e fotografia. Cosa c'entra con WordPress? Da quando ho imparato a creare siti con WordPress, questa attività ha raggiunto il 70% del suo lavoro, quindi ci incuriosisce a sapere cos'è e ti lascio il microfono mentre ti preparo le slide. Ciao, io mi chiamo Beatrice e dieci anni fa più o meno facevo questo lavoro qua. Io ho iniziato come fotografa, sono stata abbastanza fortunata perché mio papà aveva uno studio fotografico specializzato nella realizzazione di cataloghi e tendenzialmente questo era gran parte del nostro lavoro durante l'anno. Andavamo in giro, facevamo cataloghi di costumi da bagno e abbigliamento sportivo e per dieci anni ho lavorato così. Dopodiché sono cambiate un po' le priorità. È passato il tempo, io sono cresciuta e mi sono sposata e anche qui, grande fortuna, ho avuto l'opportunità di poter rimanere a casa durante la gravidanza. Mio marito aveva un lavoro che ci permetteva questo e ho potuto stare con i miei bambini, con il mio bambino che poi sono diventati i miei bambini perché poi nel frattempo ne ho fatto un altro ma questo lo vediamo dopo e ho potuto appunto avere questo bellissimo periodo solo che quando il mio piccolino è iniziato ad avere un anno e mezzo io ho iniziato a voler fare comunque qualcosa volevo sia contribuire al benessere della mia famiglia sia comunque realizzarmi, tornare a fare qualcosa perché anche se ho i capelli bianchi sono abbastanza giovane per cui insomma avevo tempo ma cosa andare a fare? Fare ancora la fotografa di moda come prima era assolutamente improponibile un po' perché sinceramente non avevo più voglia di andare da una parte all'altra del mondo e poi perché comunque avevo veramente voglia di vedere crescere i miei bambini di stare con loro e poterli anche diciamo supportare io come altra competenza ho quella della grafica però ho sempre fatto grafica a volta alla pubblicazione appunto facevamo cataloghi quindi facevo impaginazioni mi relazionavo con la stampa però ad esempio non avevo nessun tipo di competenza di programmazione molti miei clienti mi chiedevano siti e io anche un po' intimorita dicevo no no rifugivo come la peste perché dicevo no io assolutamente non avevo intenzione di mettermi anche un'altra cosa in più nel diciamo nel pacchetto delle mie competenze tra l'altro avevo lavorato anche come grafica per la realizzazione di alcuni siti ma proprio non ne volevo sapere allora cosa fare? io sono un'appassionata di crescita personale vado a fare un corso di crescita personale conosco una ragazza questa ragazza parliamo e mi racconta e mi dice guarda lei sente un po' la mia storia mi dice guarda per te tu dovresti veramente seguire questa ragazza che fa dei video online è molto brava si occupa di marketing si chiama Mari Forleo e lei ha un sito e fa dei video una volta alla settimana dove risponde a questioni di marketing dei suoi utenti qui chi conosce Mari Forleo? chi non la conosce va ad avversi video perché veramente possono dare a parte che ha un sito e proprio una comunicazione che secondo me va seguita e va utilizzata proprio come case history per il proprio lavoro perché si possono prendere sicuramente degli spunti e poi perché comunque ha insomma fa un lavoro veramente veramente eccellente lei ha anche un corso che si chiama B-School che io ho frequentato e all'interno del corso lei ti spiega come realizzare il tuo progetto se vuoi diventare un freelance se vuoi aprirti un'attività e anche crearti il tuo sito in WordPress e io rimango follogorata mi piace tantissimo inizio mi faccio il sito faccio anche il sito per mio marito che ha un'associazione sportiva direttantistica di scherma storica e questi siti piacciono piacciono ai miei clienti e io per la prima volta mi sento comunque supportata perché WordPress ti dà la possibilità anche se non hai competenze di programmazione inizialmente di poterti sperimentare di poterti comunque avvicinare a questo mondo e puoi imparare tantissimo inoltre se anche hai un problema di qualsiasi tipo hai una community alle spalle preparata hai la possibilità comunque di poter andare in rete di poter chiedere di poter essere comunque appoggiato io mi sono sentita anche sicura nei confronti dei miei clienti perché sapevo che potevo andare anche a confrontarmi dalle altre parti e ricevere accoglienza da questo punto di vista WordPress mi ha dato un sacco di vantaggi il primo in assoluto è quello di riuscire a essere indipendente dal punto di vista della diciamo della sede fisica io l'anno scorso sono stata in vacanza con i miei bambini sono potuta stare con loro e comunque ho potuto lavorare a due siti e ho potuto portare avanti dei progetti che avevo e questo per me è stata una cosa grandissima una potenzialità incredibile che ho inoltre anche se tu sei un newbie cioè un nuovo arrivato vieni accolto e puoi contribuire in maniera proattiva alla community portando la tua esperienza portando quello che tu hai e venendo comunque proprio accolto e questo è quello che è successo a me nel senso che io con la mia competenza ho portato quello che conoscevo al al work camp questo è Milano di due anni fa quindi 2016 e e poi anche a vari meet up ho portato quello che sapevo fare cioè la creatività cioè il il poter applicare anche il personal brand al proprio sito e e questo sicuramente può essere stato di aiuto ad altre persone in più sono mi ha aiutato anche a me partecipare ai work camp è una cosa bellissima perché comunque anch'io sono andata avanti ho avuto delle nuove competenze sono più sicura di me per quello che riguarda anche le strutture del sito riesco a imparare e riesco a capire anche come si fa a fare un sito in maniera ottimale poi per riuscire a essere eh con i miei clienti quindi il sunto di tutto questo è che io amo wordpress sostanzialmente sono andata grazie a tutti grazie a tutti